Simone Cremona, campione italiano di padel al Costa dei Trabocchi Sporting Club a fare lezione. Due giornate di clinica per dare un pochino di contributo a tutte le persone che comunque si stanno appassionando a questo sport, che hanno voglia di imparare, quindi sono qua a dare un pochino di consigli, ad allenare gente che comunque magari vuole fare all'agonista o anche semplicemente degli appassionati. Quindi saranno due giorni pieni, prima volta qua, sono stato qua per un torneo l'anno scorso e oggi sono qui per dare un contributo a questo club. Quali consigli da dare a chi si vuole approcciare a questo sport? Ma diciamo che questo sport parla da solo, nel senso che non conosco ancora una persona che l'ha provato e non si è appassionato, non si è innamorato. Alla fine è uno sport molto divertente, è uno sport molto aderigante e è del vantaggio anche che non è difficile da apprendere. Insomma, anche persone che magari non hanno mai giocato uno sport di racchetta, il padel comunque è abbastanza immediato nell'apprendimento, quindi può portare tantissime persone verso questo sport e secondo me un grande vantaggio è anche il fatto che il 50% dei praticanti sono donne e questa cosa è una cosa secondo me che nello sport è molto positiva. Senta, andando su internet, la prima cosa che viene fuori facendo il suo nome, scrivendo il suo nome, è che ha lasciato un posto sicuro nell'azienda di famiglia per il padel. Eccoci, racconta questa cosa. Sì, perché quando ho iniziato cinque anni fa praticamente lavoravo nelle aziende di famiglia, quindi ho iniziato e continuavo comunque a lavorare con i miei genitori e tutto. Che fanno? Che lavoriamo in un settore macchinari utensili, elaborazioni meccaniche, insomma questo. E soltanto che dopo due anni ho incominciato a farmi strada, sono entrato in nazionale subito dopo il primo anno e da lì poi sono subentrati sponsor, subentrati in montepremi, contratti. E quindi poi ho deciso di dedicarmi o provare a fare un anno a dedicarmi solo a questo sport e ad oggi mi ritrovo a fare solo questo, a fare il professionista di questo e a vivere di questo. Quindi sono molto contento della strada che ho fatto. L'obiettivo di raggiungere la top 100 nella classifica mondiale? Ma questo è un obiettivo che mi sono prefissato quest'anno e se riesco nei prossimi due anni. Però l'obiettivo ovviamente mi sono dato almeno 9 o 10 anni ancora di professionismo e l'obiettivo è quello di arrivare nei primi eventi del mondo. Quest'anno sicuramente nei prossimi due l'obiettivo è quello di entrare nella top 100 che comunque è un traguardo molto importante, molto difficile. E poi un altro obiettivo che mi sto prefissando è quello forse di andare a fare gli Olimpiadi che forse dovrebbe diventare sport olimpico nel 2028 a Los Angeles. Quindi quello sarebbe l'ultimo sogno in questa carriera da professionista insomma. Quindi padel che passione. Sì, padel che passione, innamorato di questo sport. Perché io ho giocato anche a tennis ma avevo proprio smesso di fare professionista perché non mi sarebbe mai piaciuto lavorare nell'ambito del tennis e fare il maestro. Invece oggi mi ritrovo a padel a fare il professionista e comunque anche insegnare ed è una cosa che mi piace tantissimo. Più divertente che stare in azienda. Più divertente che stare in azienda, questo sì.